A un martire si addice a morte dolorosa, parole inutili, ancora non hai capito che sei non hai capito che sei Grazie. 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 Buono per un pezzo di legno, buono per ogni cucchiaio, da quando nasce, da quando vuoi. Gli occhi sono digiuni quando si aprono al mattino. Ora che non sei che. Ecco il mio chata, puri. Quando sei là. Adesso. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info Che se non riesce a capire la domanda è soltanto suo Chi sono? Chi sono io? Qual è il ruolo che mi hai destinato? Il tuo piano, il tuo piano, il tuo piano E' quella che è la mia volontà Diventa realtà All'istante Sei soddisfatto Crocifissi Sia fatta allora in me la tua volontà Per quale motivo hai detto tuo figlio? Lo so E nel contempo lo sarei Se non posso Non ho cuore in griego Che tutti i giorni Mi ripete? Sì, signore Spero di essere arrivato in tempo Per la conversazione Quando si inseriamo Diggio, preghiera E preghiera E preghiera E preghiera Che l'ancora E paura E paura E paura a figgiare agli dei perché il bene che io sono si scompa di parole non riesco da domani dove concedi come sarai di un uomo dopo la mia morte come sarai di un uomo dopo la mia morte come la cosa è di un uomo come la cosa è di un uomo agli dei lui che si schiesa da la nera non sta solo da la nera non sta solo ma anche con dolore sangue è un uomo schifezzi si 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 Per amare, perditevi, 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 morde, di bandersi. Di me, di me, di me, di me. Un ragazzo spaventato, adesso sono un uomo. 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 Un ragazzo spaventato, adesso sono un uomo.